Ben trovati alla puntata 194 G-Style con Stefano D'Alberto. Introduciamo gli argomenti partendo dalla Start Up Hope, parliamo con Antonio Di Francesco, con Jungle. Ancora un appuntamento dedicato per questa volta alla beneficenza per Adricesta Ollus, tutti insieme con il cuore per Valentina con la presenza di Alessandro Preziosi. Parliamo ancora di comicità, questa volta con Vincenzo Livieri, Marco Papa, un grande successo teatrale e vediamo la seconda parte delle interviste, delle immagini realizzate al Teatro Massimo con la grande abruzzezza. Ancora un evento però dedicato questa volta agli sposi, spesso e volentieri ci occupiamo di nuove coppie, lo facciamo con Sposiamoci, fiera che si è svolta a Lanciano, vediamo il quarto blocco di interviste e di immagini per seguire un po' quello che sono state le nuove proposte presentate alle coppie future. Un piatto per te, una rubrica che continua a interessare un po' tutti, dedicata alla buona cucina, parliamo di timballo di verdure e paglieroli croccante e concludiamo con la nostra amica Marilisa, make-up artist, che ci parla di questo suo workshop. Quindi buona visione con G-Style. G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle. Il tuo filmato preferito, sempre in tasca. Ci trovi su YouTube G-Style TV. Quanti ci seguono? Vai su YouTube G-Style TV. G-Style, seguici e vedrai. Vuoi essere protagonista di G-Style? Invia subito il tuo filmato premendo REC sul tuo smartphone a info giulogenari-libero.it e sarai protagonista di G-Style.